allora ragazzi quella lì sarà la nostra destinazione vedete che c'è una croce ora dovete vedere lì qui c'è No, ritorniamo indietro, sono veramente ignorante perché non so fare il labyrinthine. Ok, qui, adesso ce l'abbiamo fatta. No, ritorniamo indietro. No, ritorniamo indietro. No, ritorniamo indietro. No, ritorniamo. No, ritorniamo. No, ritorniamo. No, ritorniamo indietro.